Eeeh... Sai che ti dico? Io mi sa che vado, eh Che si è fatta una certa E quindi, capito, no? Cioè, ci siamo capiti E dai, su non fare quella faccia Cioè, ho capito che mi sono preso una pausa Un pochettino dai video, però, cioè Ci sta ogni tanto, lasciamola godere Che quella faccia poi mi inquieti E non fare quella faccia Ho capito che mi sono preso una pausa e che non sto più facendo video Però sai perché non sto facendo video? Perché non ho una reflex Adesso, dimmi te io come faccio a trovare i soldi per una reflex Che costa comunque sia tanto E che senza di quella non posso più riuscire a fare i video bene Come li voglio fare io, capito? E questo è il vero problema E non è che le reflex fiumbano così dal cielo Dal cielo no, ma da te stesso Ma che cazzo Tu, 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 tu Oddio mio, sì, io sono te Tu sei me e no, non posso dirte nulla riguardante il tuo futuro Perché altrimenti collasserebbe l'intero con un team Un spazio-tempo E no, non posso neanche dirti come finisce la seconda stagione di Flash Un momento, un momento, un momento Perché sei qui? Vuoi una reflex, giusto? Quindi? Guarda sotto il tavolo Sotto il tavolo Ma che cazzo? Ma, ma non ci voglio credere Una camera neostra 750D Ma, cioè, io Potrò viaggiare nel tempo per autoregarmi la roba Cioè, ma pensa ai vantaggi Mi posto che ne so Autoregarmi una macchina Una BMW Una Cos'è? Lo saprei di te? Guardati Così innocente Così inconsapevole Di tutto quello che dovrei affrontare Il tempo cambia E così anche noi Ma questo è un bene Non pensare che quello che ti sta succedendo adesso sia un male Perché Poi arriverà Perché? Chi arriverà? Franky arriverà Che cazzo è? Il tempo cambia E così anche noi Tu In questo momento stai cambiando Da quando hai smesso di caricare i video sul canale Hai scatenato una reazione a catena di eventi Che Dio solo sa quanto sono stati gravi Ma adesso ti devi prendere delle responsabilità Perché quel mezzo che io ti ho dato È l'unico modo per salvare il canale Ma ora devo andare E tu Ti devi rigenerare No, no, no No, aspetta Aspetta Ti prendo, aspetta Aspetta Non sono pronto Non sono pronto Ho solo Una reference Ho solo Una reference Una reference Questo è soltanto l'inizio L'inizio di una nuova avventura E come si suol dire Anno nuovo Franky nuovo E adesso Che l'avventura cominci Che tutto Quello che ci aspetti nel futuro Capito? No Il futuro Tanto Anche se ho la reflex No Comunque faccio schifo Detto questo ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare un bel mi piace Di iscrivervi al canale In caso non siete iscritti E noi ci vediamo con un prossimo video Come sempre Dritto per dritto